Luci e ombre sull'economia italiana. Da una parte la disoccupazione ha toccato un nuovo livello record, dall'altro è in attenuazione la spirale recessiva con la svolta per l'economia che dovrebbe arrivare entro l'autunno. Lo rivela il Centro Studi di Confindustria nella congiuntura Flash pubblicata oggi, che la timida ripresa sia in atto e confermato dall'andamento delle esportazioni. Ordine ed esportazioni stanno confermando l'attenuazione della recessione nell'industria italiana, afferma Confindustria, con la produzione che ha smesso di scendere anche se rimane molto bassa e lontana dai livelli pre-crisi. Risulta invece ancora in contrazione l'attività dei servizi e dell'edilizia. La spina nel fianco rimane dunque il fronte lavoro a maggio, un nuovo livello record con oltre 3 milioni in cerca di lavoro, il 12,2% della forza lavoro, e le prospettive sono di un ulteriore peggioramento. Rimane preoccupante anche il trend di riduzione dei prestiti alle imprese italiane, che ha mostrato a maggio una flessione dello 0,8%.